Ciao a tutti, oggi vi presento un piatto tipico contadino. La ricetta l'ho presa nel libro Il nutrimento dei contadini, scritto dal mio amico professor Francesco Galiffa. Si tratta di coste di carciofi con fagioli tondini. Mettiamoci all'opera! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!